Immagino di non essere il solo ad aver avvertito una sorta di sentimento comune crescente di odio verso il genere umano, di rassegnazione, di insofferenza verso i nostri simili. Sentimenti più che giustificati, visto il comportamento che la nostra specie ha mostrato verso il pianeta che ci ha ospitato, che ci ospita e che ci ospiterà, probabilmente ancora per poco. Ed è proprio qui che il 2050 gioca un ruolo essenziale, ma perché proprio il 2050? Cos'ha di speciale questa data? Ebbene, il 2050 non è altro che il risultato di una serie di dati scientifici, ricerche e valutazioni che una volta incrociati tra loro hanno portato una stima temporale che determina una data indicativa in cui con molta probabilità si verificherà la sesta estinzione di massa che coinvolgerà buona percentuale di tutte le specie viventi presenti sul pianeta. Ad ogni modo si tratta pur sempre di una data indicativa, poiché visto l'andazzo attuale non potremo che anticiparla sempre di più. Allora, voglio premettere che per la trattazione di questa tematica mi rifarò una serie di ricerche svolte dal National Center for Climate Restoration, Breakthrough, che ha sede a Melbourne in Australia. Ad ogni modo lascerò tutti i riferimenti in modo tale che poi chiunque possa andare a verificare la veridicità delle fonti. Allora, partiamo con il fare una breve panoramica sul cos'è il Breakthrough e di cosa si occupa. Quest'ultimo è un istituto indipendente che sviluppa una leadership di pensiero critico che va a influenzare il dibattito sul cambiamento climatico e di conseguenza le politiche relative. Inoltre il Breakthrough si propone come obiettivo principale, come missione, quella di sviluppare e promuovere una strategia ottimale per il ripristino sicuro del clima. Ma cos'è il ripristino sicuro del clima? E perché è così importante? Esso si sostanza in una serie di azioni volte a ripristinare processi naturali climatici che generano temperature medie globali e acidità oceanica sicure per tutte le specie viventi. Per fare questo il Breakthrough si circonda di una serie di figure qualificate, scrittori, collaboratori, che attingono alla scienza per review, al fine di fornire valutazioni e analisi sui problemi della gestione dei rischi di fascia alta, dando quindi risposte adeguate. Arrivato a questo punto però devo necessariamente aprire una piccola parentesi e menzionare l'esemplare stile di atteggiamento che il Breakthrough adotta e che per forza di cose si ripercuote anche sul loro lavoro pratico. Un atteggiamento che verte sostanzialmente su urgenza ed emergenza per quanto concerne il ripristino di condizioni climatiche sicure per tutte le specie viventi. Questo perché viviamo in un'epoca storica in cui non possiamo più permetterci di adottare mezze misure, né possiamo più concederci il lusso di scendere a compromessi. Se deve essere fatto qualcosa va fatto in modo drastico e purtroppo ad oggi non si stanno né adottando misure drastiche né tantomeno esiste l'intenzionalità di adottarle. A questo punto però qualcuno potrebbe obiettare dicendo che oggi già esiste un diffuso senso di allarme, un amplificato senso di emergenza riguardo al cambiamento climatico. Ed è così da un punto di vista di percezione generale. Ma se andiamo ad analizzare le cose da un punto di vista pratico ci accorgiamo che le cose stanno in modo totalmente differente. Infatti in questa stessa trattazione mi occuperò di mettere in luce sotto la lente di ingrandimento quelle che sono le principali problematiche, inadempienze e contraddizioni che riguardano quegli istituti, quegli organismi che si occupano di fornire delle valutazioni sul cambiamento climatico che hanno un peso considerevole dato che poi vanno incidere su quelle che sono le politiche che vengono adottate a livello locale, nazionale e internazionale. Ma andando a chiudere il quadro sul breakthrough possiamo aggiungere che si è sviluppato su una piattaforma di partito non politico e che viene finanziato o attraverso donazioni di privati oppure attraverso sovvenzioni lì dove sono disponibili. Concluso quindi questo breve quadro riassuntivo sul cos'è il breakthrough e di cosa si occupa, va detto che gran parte delle critiche che il breakthrough muove sono rivolte all'IPCC che sta per Intergovernmental Panel on Climate Change che tradotto sarebbe gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Questo foro scientifico è formato da due organismi delle Nazioni Unite. Il primo è l'OMM, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, e il secondo è l'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Riguardo all'IPCC possiamo dire che non si occupa direttamente di fare monitoraggio, ricerca o raccolta dati, ma si affida alla letteratura scientifica pubblicata in seguito a peer review oppure a rapporti forniti da istituzioni mondiali. Attraverso questo materiale informativo scientifico vengono formulate delle valutazioni e ad oggi sono state pubblicate cinque valutazioni ed è previsto una sesta per il 2022. Questi rapporti di valutazione si occupano principalmente di fare un'analisi sul cambiamento climatico, andando ad affrontare quelli che sono gli impatti, la mitigazione e l'adattamento. Per chi non lo sapesse, queste valutazioni hanno un peso considerevole. Infatti basti pensare che hanno il potere di far riunire intorno allo stesso tavolo le più autorevoli figure politiche del panorama mondiale. Un esempio concreto di accordo preso sulla base delle valutazioni fornite dall'IPCC è il famoso protocollo di Kyoto, oppure in tempi più recenti l'accordo di Parigi. Quindi si intuisce bene che queste valutazioni devono cercare di essere quanto più accurate possibile, non possono peccare di omissioni o inadempienze nel tenere in considerazione determinati fenomeni che poi sono utili a fare delle previsioni sul clima futuro. Purtroppo invece l'IPCC pecca di una serie di problemi e inadempienze. Partiamo da quelli che sono i problemi. Ce ne sarebbero parecchi da elencare. Io ho voluto fare una sintesi su quelli che sono i più gravi e ho selezionato sei principali problemi. Partendo dal primo problema principale che porta alla creazione di tutti gli altri, ovvero quello di aver sottovalutato e sottostimato i rischi. Direttamente collegato a questo primo problema c'è la mancata incorporazione di determinati fenomeni nei modelli informatici che vengono utilizzati per prevedere il clima futuro. Quindi si capisce bene che non aver tenuto in considerazione determinati fenomeni va a favorire una sottovalutazione della quantità di riscaldamento che molto probabilmente si verificherà. Come terzo punto c'è il quadro ingannevolmente ottimistico sul futuro. E anche se mi riferisco limitatamente a ciò che è contenuto nei rapporti IPCC, un'emanazione diretta e o indiretta di questo ottimismo sul futuro la possiamo vedere attraverso il bombardamento mediatico che costantemente subiamo attraverso notizie informazioni che ci mettono al corrente di quanto grave sia la situazione climatica che stiamo vivendo in questo particolare periodo storico. Ma al tempo stesso possiamo notare come queste notizie sono sempre affiancate da messaggi di speranza. Quante volte abbiamo sentito parlare di nuove tecnologie grazie alle quali riusciremo a risolvere i nostri problemi futuri oppure innovazioni grazie alle quali riusciremo a invertire il percorso catastrofico che abbiamo imboccato. Tutto falso, tutte false speranze, poiché chi è addentrato nella ricerca e nello studio del clima e di quelli che sono gli effetti che si verificheranno è già conoscenza del fatto che non c'è alcuna speranza per il futuro. Questa stessa trattazione che sto facendo non vuole assolutamente essere un messaggio di speranza, al contrario, vuole più che altro essere un messaggio di consapevolezza su quella che è la realtà attuale e su come si evolverà nei prossimi anni. Infatti voglio, dati scientifici alla mano, cercare di far capire perché il 2050 è indicato come la data in cui molto probabilmente si verificherà la sesta estinzione di massa che coinvolgerà la quasi totalità della biodiversità presente sul pianeta. E con questo vorrei portare chi ascolterà prima di tutto ad approfondire meglio questa tematica e magari a prendere decisioni diverse sul futuro rispetto a quelle che avrebbe preso in condizioni normali. Ma, ritornando ai principali problemi che riguardano l'IPCC, va menzionato anche il fatto che i rapporti non tengono in considerazione le ricerche più recenti. In altre parole, i rapporti non vengono aggiornati al momento del rilascio. Per comprendere meglio questo problema, dobbiamo prendere in esame ciò che è successo a Ines Fung, del Berkeley Institute of Environment della California, a cui fu chiesto di completare la sua ricerca nel 2004 per il rapporto IPCC del 2007. Il che penso che si commenti abbastanza bene anche da solo. Infine, passando agli ultimi due principali problemi, bisogna parlare della dipendenza unilaterale che si ha verso i modelli IPCC e infine del fatto che i rapporti vengono compilati da gruppi di scienziati che devono necessariamente arrivare a conclusioni consensuali sulla base delle prove presentate, anche se quest'ultime sono in contraddizione tra loro. In più, va anche detto che le proposte supportate da una maggior quantità di articoli di ricerca vincono su quelle proposte supportate da una minor quantità di articoli di ricerca. Nonostante quest'ultime potrebbero non essere meno significative scientificamente. Passando a quelle che sono le inadempienze, anche in questo caso ho fatto una sintesi andando a selezionare 5 tra le più gravi e principali inadempienze riguardanti l'IPCC. E per partire dalla prima dobbiamo fare riferimento alla quinta relazione del rapporto IPCC che non ha assolutamente tenuto in considerazione le emissioni di CO2 in seguito a scongelamento del permafrost. Anche in questo caso, direttamente collegato a questo primo punto principale, c'è il gravissimo fenomeno di derisione da parte di alcuni esperti verso determinate affermazioni e previsioni, come ad esempio in merito al rilascio del metano, in seguito al riscaldamento dei fondali marini che causerebbero lo scongelamento della gabbia di permafrost che ingabbia gli idrati di metano. Su questo i modelli di stima dell'IPCC hanno detto che non ci sono pericoli per questo secolo e che la formazione dei talix, che non sarebbero altro che degli strati di terreno non ghiacciato che consentirebbero il rilascio di metano, richiederà secoli se non millenni. E questo punto lo confuterò più avanti sulla base di dati scientifici inequivocabili. Per il terzo punto invece dobbiamo fare riferimento all'ESSIQIPCC in cui i risultati futuri vengono considerati improbabili se si trovano al di fuori del 67% di distribuzione della probabilità. Peccato però che per alcuni tipi di valutazione del rischio quel 33% che viene tagliato fuori è più che sufficiente per essere preso in considerazione essendo alta la possibilità di accadimento. Infine, passando agli ultimi due punti che riguardano le inadempienze dell'IPCC va menzionata l'incertezza sul cambiamento climatico che ha lasciato che i responsabili politici minimizzassero i rischi climatici con cui oggi ci ritroviamo ad avere a che fare. E infine il fatto che i modelli climatici sono stati negligenti sia nella gestione che nella valutazione della velocità del ritiro del ghiaccio artico. Ora, perché ho fatto questo elenco di problemi inadempienze? Non è di certo fine a se stesso, così come non vuole meramente puntare il dito contro questo foro scientifico. Più che altro è necessario capire che questi non sono problemi che si risolvono con delle scuse o con delle promesse di essere più accurati con i lavori futuri. Così come non sono problemi che possono essere risolti con delle sanzioni. Bisogna prendere consapevolezza del fatto che questi problemi nel corso del tempo hanno portato a una serie di sottovalutazioni e sulla base di questi rapporti sono state anche prese delle decisioni in ambito politico che hanno minimizzato quelli che sono i rischi climatici con cui per l'appunto oggi ci ritroviamo a fare i conti. Quindi detto questo, andando avanti con il tempo, queste sottovalutazioni ci stanno portando al raggiungimento di un punto di non ritorno. Lo dice la parola stessa, punto di non ritorno non è altro che il superamento di una soglia critica oltre la quale non è più possibile tornare indietro. Infatti, superare un punto di non ritorno significa innescare una serie di reazioni a catena che portano al superamento di altri punti di non ritorno e questo si traduce in modifiche tali al clima che nel prossimo futuro, a prescindere dall'intervento o non intervento dell'uomo, porteranno a una situazione climatica che renderà il pianeta inabitabile, portando sia il genere umano che le altre specie che lo abitano a una grande estinzione di massa. E questo concetto non è astrazione poiché è un percorso che abbiamo già imboccato e con cui ci ritroveremo a fare i conti nei prossimi anni, ma va anche detto che il raggiungimento di un punto di non ritorno è figlio di due tipi di sottovalutazioni diverse ma collegate tra loro. Da una parte abbiamo le sottovalutazioni scientifiche e dall'altro le sottovalutazioni politiche. Partiamo da quelle che sono le sottovalutazioni scientifiche facendo una premessa. Tutto verte sull'aumento di temperatura sul termometro globale. Fatta questa premessa immagino che molti avranno già sentito parlare dell'impegno di limitare la temperatura media superficiale globale al di sotto in una soglia critica di 1,5 gradi centigradi. Questo impegno è dovuto all'UNFCCC che sta per United Frameworks Convention on Climate Change, che tradotto sarebbe Convenzione Quadro Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico. Con questo trattato le nazioni si sono impegnate a limitare la temperatura media superficiale globale al di sotto di una soglia critica che va da 1,5 a 2 gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale. Peccato però che il mondo in cui viviamo è già impostato su un percorso di aumento della temperatura media superficiale globale che va dai 3 ai 5 gradi centigradi, andando quindi a sfondare la soglia critica impostata dall'UNFCCC, senza contare il fatto che rispetto agli ultimi 25 anni abbiamo avuto un aumento del 50% delle emissioni di CO2. Ora volevo menzionare una curiosa divisione di pensiero che riguarda un po' indirettamente l'IPCC, in quanto da una parte ci sono i negazionisti del clima, queste figure mitologiche che farebbero anche simpatia, un po' come i terapiattisti, non fosse per il fatto che sono inserite in quei particolari settori come politica e scienza, che sappiamo bene essere fondamentali per perseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni e quindi riuscire a limitare i danni del riscaldamento climatico. President Trump ha rispetto a risolvere dal concetto di paris, cosa era la reazione a questo? Credo che era un concetto di negoziato per l'amera americana. Quindi ci sono i negazionisti del clima, una delle peggiori categorie apparse negli ultimi anni, che accusano l'IPCC di allarmismo. Il che è divertente dato che, come ho spiegato prima, l'IPCC pecca di una serie di problemi e inadempienze che hanno portato a sottovalutare e sottostimare i rischi, che poi è conseguito con un'alterazione delle valutazioni che poi hanno un'influenza sulle decisioni politiche che vengono adottate dai singoli stati. E dall'altra parte invece ci sono i sostenitori e gli attivisti dell'azione per il clima che invece accusano l'IPCC di essere troppo conservativo. Ma lasciando un attimo da parte questo discorso, proviamo a cercare di capire concretamente cosa significa raggiungere un punto di non ritorno. Cosa succede quando si supera questa famosa soglia critica? Per capirlo abbiamo bisogno di prendere in esame due tipi di scenario verosimili con cui quasi sicuramente ci ritroveremo ad avere a che fare nel prossimo futuro. Allora, nel primo scenario immaginiamo una velocità di cambiamento di temperatura media superficiale globale attestata intorno agli 0,3 gradi centigradi per decennio. Quindi stiamo parlando di 3 gradi centigradi al secolo. In questo scenario succede che il 15% degli ecosistemi non sarà in grado di adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Se aumentiamo invece di pochissimo la temperatura, quindi abbiamo a che fare con uno scenario in cui la velocità di cambiamento della temperatura media superficiale globale è attestata intorno agli 0,4 gradi centigradi per decennio, quindi 4 gradi centigradi al secolo, succede che tutti gli ecosistemi verranno distrutti e le specie opportunistiche prenderanno il sopravvento e domineranno. E per specie opportunistiche non intendo l'uomo. In più va anche considerato che con l'estinzione di gran parte della biodiversità presente sul pianeta avverrà una rottura del materiale biologico che incrementerà ancora di più le emissioni di CO2, andando a peggiorare quindi la situazione climatica. Continuando con le sottovalutazioni scientifiche, bisogna menzionare senz'altro il fatto che il modello semiempirico è stato sacrificato in confronto ai modelli di circolazione generale. Questi ultimi sono delle rappresentazioni matematiche del sistema climatico terrestre, basate sulle leggi della fisica e della chimica. Come funzionano questi modelli di circolazione generale? Sostanzialmente vengono presi dei dati e inseriti in particolari computer che li elaborano e simulano le interazioni tra gli importanti fattori del clima. Tutto ciò è finalizzato a fornire delle proiezioni sul clima futuro. Solo che questi modelli hanno delle limitazioni che vanno ricercate in particolar modo nei modellisti, che non sono in grado di comprendere i processi fisici coinvolti e di conseguenza riuscire a rappresentarli in termini quantitativi. Per fare un esempio, le dinamiche della calotta di ghiaccio sono scarsamente riprodotte e i processi chiave che controllano la risposta del flusso di ghiaccio a un clima caldo non sono inseriti negli attuali modelli di calotta di ghiaccio. Dall'altra parte invece il modello semiempirico è un modello più semplice, di ridotta complessità, che va a sfruttare le relazioni statistiche. Sostanzialmente questo modello unisce le osservazioni attuali ad alcune relazioni fisiche di base osservate dai climi passati, insieme a considerazioni teoriche relative alle variabili attraverso principi fondamentali. Tutto questo finalizzato a fare delle proiezioni sul clima futuro. Il modello semiempirico, ad esempio, può fornire una risposta di stima all'inalzamento del livello del mare. Ciò avviene osservando i tassi passati del cambiamento del livello del mare dai dati climatici in cui lo squilibrio energetico del sistema era simile a quello odierno. Questo permette di fornire delle informazioni utili sulla velocità dell'inalzamento del livello del mare che potrebbe verificarsi nel prossimo periodo. Pertanto il modello semiempirico permette di mettere in relazione l'inalzamento globale del livello del mare all'aumento di temperatura media superficiale globale. Tutto ciò per fare delle proiezioni sul futuro. Ora questo approccio non è solo teorico, poiché è stato già utilizzato da Ramstorff nel 2007 per proiettare un aumento del livello del mare compreso in un valore che va da 0,5 a 1,4 metri per il 2100. A differenza invece delle stime PCC basate sui modelli di circolazione generale, che invece avevano proiettato un aumento del livello del mare inferiore compreso in un valore che va da 0,18 a 0,59 metri entro il 2100. In conclusione quindi possiamo dire che il modello semiempirico si basa sulla paleoclimatologia, in altre parole sulle osservazioni della storia del clima al fine di stabilire relazioni tra variabili. L'EPCC andando a privilegiare i modelli di circolazione generale rispetto ai modelli semiempirici ha mostrato di minimizzare quelle che sono le intuizioni derivate dall'osservazione climatica del nostro pianeta. Continuando con le sottovalutazioni scientifiche, devo necessariamente introdurre uno dei temi barra problemi più importanti per questa epoca storica, da cui purtroppo si sta sviluppando un particolare business che non tiene in considerazione quelle che sono le conseguenze future. Ma questo lo spiegherò meglio più avanti. Partiamo col dire che in un'epoca sottoposta ad accelerazione del riscaldamento globale, il superamento della soglia critica di emissioni di CO2 e relativa presenza in atmosfera non si concilia con i tempi umani, in quanto la CO2 ha una longevità atmosferica approssimata intorno ai mille anni. E riguardo a quest'ultima frase si apre il dibattito, c'è una vera e propria divisione. Infatti dall'altra parte spesso si arriva a una determinata conclusione sulla base di alcune affermazioni. Una di queste è il fatto che il potenziale riscaldamento climatico previsto dall'EPCC per ciò che riguarda l'effetto della temperatura dovuto alla CO2 è riferito a diverse scale temporali 20, 100 e 500 anni. In più viene anche tenuto in considerazione il fatto che ogni singola molecola di CO2 ha un tempo di vita media in atmosfera di circa 5 anni. E già su questo si crea un contrasto con ciò che è stato detto in precedenza sulla longevità atmosferica della CO2. Pertanto sulla base di queste due affermazioni si arriva alla conclusione che alla CO2 non può essere attribuita la causa del riscaldamento climatico previsto dall'EPCC. Questo modo di argomentare è profondamente sbagliato, poiché seppur vero che la prima affermazione è corretta, così come lo è anche la seconda, quest'ultima è del tutto fuorviante e rilevante e da essa non consegue che la conclusione finale sia vera. Ma cerchiamo di capire perché è sbagliato affermare che alla CO2 non può essere attribuita la causa del riscaldamento climatico previsto dall'EPCC. Prima di tutto dipende cosa si intende per tempo di vita media e per riuscire a comprenderlo dobbiamo far riferimento al glossario del quarto rapporto di valutazioni IPCC risalente al 2007, in cui al termine LIFETIME, tra i vari significati, il più importante associato è TOURNOVER. TOURNOVER non è altro che il ciclo di un elemento. Ciò che a noi serve per riuscire a capire perché la conclusione precedente è sbagliata è il tempo di TOURNOVER, a cui attribuiremo la sigla T, dato che poi dovremo ricavare una formula. Quindi il tempo di TOURNOVER è una stima approssimativa della quantità di un dato elemento massa, M, per l'unità di tempo che M impiega per entrare o uscire in un dato ecosistema. Quest'unità di tempo è espressa con S. Da questo avremo che T sarà uguale a M diviso S. Ora, applichiamola sta formula e per farlo ci viene in aiuto lo schema del ciclo del carbonio fornito dalla NASA, che adesso farò apparire a video. Ora, osservando questo schema, possiamo notare che il flusso di carbonio, espresso in circa 200 gigatonnellate all'anno, entra ed esce dall'atmosfera che contiene un deposito di 800 gigatonnellate. Quindi, applicando la formula che abbiamo ricavato in precedenza, ovvero T uguale M diviso S, avremo che T, ovvero il tempo di TOURNOVER, sarà uguale a 800 gigatonnellate M, ovvero la quantità deposito, diviso 200 gigatonnellate S, l'unità di tempo che M impiega per entrare o uscire in un dato ecosistema. Come risultato avremo 4 anni di longevità di ogni singola molecola di CO2 in atmosfera. E qui ci ritroviamo con la seconda famosa affermazione, secondo la quale ogni singola molecola di CO2 ha un tempo di vita media in atmosfera approssimato intorno ai 5 anni. Solo che, continuando ad osservare lo schema del ciclo del carbonio, possiamo anche notare che il carbonio in atmosfera aumenta a un ritmo di 4 gigatonnellate all'anno. Ciò che succede è quindi che la molecola che esce dall'atmosfera si scambia con una molecola proveniente dall'oceano. Ne risulta quindi che, ai fini del riscaldamento climatico, ciò che conta non è il tempo di permanenza della CO2, ma il surplus, ovvero la quantità deposito presente in atmosfera. A questo punto, per riuscire a comprendere come si arriva a capire perché la CO2 ha una longevità atmosferica approssimata intorno ai mille anni, ciò che ci serve è capire come funziona il ciclo del carbonio. Anche se, sulla base di quest'ultima considerazione, già capiamo che un punto chiave da tenere in considerazione è per l'appunto il surplus. Allora, riguardo al ciclo del carbonio, devo ammettere che spesso sono molto sottovalutati quegli schemi illustrati che si trovano sui libri di scienze delle scuole medie e elementari. E in un'epoca storica come la nostra, in un paese ignorante come l'Italia, in cui non si legge quasi più, rispolverare un po' questi schemi illustrati che descrivono come avviene il ciclo degli elementi, come ad esempio quello dell'acqua e del carbonio, potrebbe riuscire ad aiutarci a comprendere come avvengono questi fenomeni. Dato che ormai la comunicazione avviene quasi esclusivamente mediante immagini digitali, oppure specialmente in Italia, dato che non si legge quasi più, spesso ci si limita al titolo del giornale, non si approfondisce. E' proprio per via del fatto che specialmente in occidente abbiamo uno stile di vita in cui siamo cullati dal benessere, spesso determinati problemi, non riuscendo a toccarli con mano, ci appaiono come astratti. Ecco perché magari rispolverare questi schemi potrebbe riuscire ad aiutare a comprendere meglio particolari fenomeni. Comunque ciò che a noi interessa per riuscire ad arrivare al discorso della longevità atmosferica della CO2 è come avviene l'assorbimento del carbonio. Questo assorbimento può avvenire in due modi diversi, o attraverso i processi biologici oppure mediante la dissoluzione negli oceani. Partiamo dai processi biologici. Quali sono? Uno di questi, ad esempio, è la formazione di combustibili fossili. Solo che naturalmente questo processo impiega milioni di anni per verificarsi. Un altro tipo di processo biologico molto più rapido rispetto al precedente è l'assorbimento che avviene grazie al regno vegetale. Infatti spesso sentiamo parlare di programmi basati su donazioni volontarie, di un euro o più per piantare o adottare un albero, portati avanti da aziende, associazioni, anche partiti politici, spesso adottando la strategia del greenwashing. Comunque, la riforestazione è senz'altro un programma che mette d'accordo tutti, a meno che non sia dei masochisti che vogliono vedere bruciare il mondo. Ma mettendo un attimo da parte questo limitato caso kamikaze, dipende come la riforestazione viene fatta. A tal proposito, è utile prendere in esame uno dei più grandi programmi di riforestazione portato avanti dall'uomo, ovvero il Free North Shelter Forest Program, approvato nel 1978 dal governo cinese. Questo programma di riforestazione, conosciuto anche come Grande Muralia Verde, ha lo scopo di arrestare il fenomeno di desertificazione del deserto del Gobi. Come ha portato avanti il governo cinese questo programma? Inizialmente applicò una piantumazione monocolturale che spesso prevedeva l'introduzione di specie all'octone. Ovviamente la monocoltura va a uccidere la biodiversità presente in un ecosistema. Un ecosistema dobbiamo intenderlo come se fosse un corpo umano. Se io a una persona comincio a tagliare braccia, gambe, comincio a privarlo di organi vitali, fino all'ultimo quella persona muore. Allo stesso modo, se io in un ecosistema comincio a uccidere la biodiversità, è normale che fino all'ultimo quell'ecosistema morirà, poiché vado a privarlo di tutte quelle interazioni intelligenti che rendono un ecosistema forte e salubre. In più successe che con l'introduzione di specie all'octone queste andarono a nutrirsi a scapito delle specie autoctone e quindi invece di arrestare il processo di desertificazione, quest'ultimo fu accelerato. Però va anche detto che il governo cinese imparò da questi sbagli e capì che doveva portare avanti un programma di riforestazione basato sulla qualità. Anziché sulla quantità. Ecco perché oggi bisogna capire bene cosa si intende per riforestazione, poiché portarla avanti in modo sconsiderato può provocare più danni che benefici. Inoltre va anche menzionato il fatto che una specie che viene coltivata in serra in seguito trapiantata non potrà mai attecchire con la stessa forza e vigore di una invece che attecchisce naturalmente in un ambiente selvatico. E una specie che viene coltivata in seguito trapiantata sarà molto più debole rispetto all'altra e nel tempo più soggetta ad attacchi fungini o di patogeni. Ora, ritornando all'assorbimento del carbonio da parte del regno vegetale, bisogna anche dire che l'albero cresce ma quando invecchia assorbe una quantità di carbonio molto inferiore rispetto a quando è giovane. Poi l'albero muore e quando si decompone rilascia in atmosfera la quantità di CO2 assorbita fino a quel momento. È onesto dire che la riforestazione può portare un lieve miglioramento. Ma perché questo? La domanda da farci è perché io vado a riforestare? La risposta è per assorbire quella quantità di CO2 in surplus in atmosfera. Ma se al tempo stesso si continuano ad utilizzare combustibili fossili, che quindi immettono in atmosfera sempre più CO2, è inutile riforestare. Non ha alcun senso. Ecco che qui ritorniamo al discorso delle misure drastiche. Perché se si vuol cominciare a parlare seriamente di riforestazione, parallelamente bisogna portare avanti un programma che estingua del tutto, in maniera sincronizzata a livello globale, l'utilizzo di combustibili fossili. Ma questo non potrà mai avvenire, perché il sistema in cui siamo inseriti, la società in cui viviamo, è fondata sull'utilizzo dei combustibili fossili. So che questo richiederebbe un discorso a parte. Continuando con l'assorbimento di carbonio, abbiamo detto che, oltre ai processi biologici, avviene anche mediante dissoluzione negli oceani. Questo è un tipo di assorbimento molto più rapido rispetto al precedente. Solo che, a un certo punto, lo strato superficiale oceanico si satura e si verifica un fenomeno chiamato collo di bottiglia, in cui il carbonio viene trasportato dalle acque superficiali a quelle più profonde attraverso lenti movimenti di circolazione oceanica e ricambio. Questo ricambio, però, avviene in un periodo di tempo approssimativo che va dai 500 ai 1000 anni. Ecco che finalmente arriviamo al perché. la CO2 ha una longevità atmosferica approssimata intorno ai 1000 anni. Quindi, riepilogando, bisogna tenere in considerazione prima di tutto il surplus di CO2 presenti in atmosfera e in seguito il fatto che i processi naturali di assorbimento di CO2 non corrispondono ai tempi umani. Quindi, nel frattempo, noi continuiamo a immettere CO2 in atmosfera che non verrà mai assorbita. Un altro punto, però, da tenere in considerazione è che, se io vado a forzare i processi naturali, ho degli effetti collaterali. Infatti, l'assorbimento di CO2 da parte degli oceani rende l'acqua più acida e questo ha degli effetti sui biosistemi oceanici, come ad esempio la dissolvenza dei gusci carbonatici degli organismi marini. E questo li rende più fragili e più deboli. Inoltre, più caldo è l'oceano, minore è la quantità di energia e di CO2 che l'acqua riesce ad assorbire e immagazzinare dall'atmosfera. Questo perché viene ridotta la presenza di fitoplancton, che è responsabile principale dell'assorbimento di CO2 insieme alle piante oceaniche. Questo perché il fitoplancton prospera meglio in acque fresche e ricche di nutrienti. E voglio concludere questo discorso con le parole di Karen Wilshire, vice direttore dell'istituto Alfred Wegener per la ricerca marina e polare, quando dice che l'oceano è come l'aria condizionata per il pianeta. Continuando con le sottovalutazioni scientifiche, voglio menzionare il rapporto dei rischi del 2017, che conclude dicendo che al momento il mondo è completamente impreparato a immaginare e ancor meno occuparsi delle conseguenze dei catastrofici cambiamenti climatici. Inoltre uno studio del 2016 ha concluso che il ciclo del carbonio del suolo non è stato preso in considerazione nei modelli informatici che vengono utilizzati per fare delle previsioni sul clima futuro. In altre parole non è stata presa in considerazione la perdita del carbonio del suolo in seguito al riscaldamento climatico, specialmente dai suoli nordici più freddi. Ma parliamo anche di foreste. Diamo qualche dato scientifico, qualche numero. Allora, basti pensare che un terzo delle emissioni di CO2 derivate esclusivamente da attività umane vengono assorbite dal regno vegetale. Ora, sulla base di questa consapevolezza, noi umani in quanto specie, come ringraziamo il regno vegetale concretamente di questa capacità che ha di rendere l'aria respirabile e l'ambiente in cui viviamo vivibile? Beh, ci sono diversi modi in cui l'essere umano mostra gratitudine verso il regno vegetale. Alcuni di questi, ad esempio, sono incendi, focolai, scelte e comportamenti che hanno portato a incrementare fenomeni come la siccità, variazioni nei modelli di pioggia, un'accelerazione del riscaldamento climatico. Tutti fenomeni che costituiscono un pericolo per gli alberi e in modo più esteso a tutto il regno vegetale. Secondo i ricercatori noi ci troviamo già in un punto ecologico di non ritorno. Infatti, uno studio del 2009 stima che un aumento della temperatura sul termometro globale di 2 gradi centigradi ridurrebbe a metà il dissipatore di carbonio costituito dalle foreste pluviali che si trovano nella fascia tropicale. Questo è ciò che riguardava le foreste, ma di permafrost si parla sempre troppo poco. Allora, voglio darvi un dato che dovrebbe farci tremare tutti. È giusto prendere consapevolezza del fatto che il permafrost globale contiene 1,5 trilioni di tonnellate di carbonio congelato. Ora, sulla base di quello che ho spiegato prima riguardo al surplus di CO2 presente in atmosfera, sappiamo già che la CO2 ci sta già portando verso il raggiungimento di un punto di non ritorno. A questo punto voglio che immaginate un grafico in cui c'è un vettore che sale verso l'alto. Questo vettore indica l'aumento di CO2 presente in atmosfera, solo che questo vettore è in crescita ma in modo graduale. Non ci sono dei picchi che schizzano verso l'alto. Quindi, dato che noi stiamo emettendo in modo costante e graduale CO2 in atmosfera, sappiamo già che questo sta avendo degli effetti sul riscaldamento climatico. Questo sta già portando a un deterioramento del permafrost artico. Questo, nel corso del tempo, porterà al completo scongelamento del permafrost. E quindi, quei famosi 1,5 trilioni di tonnellate di carbonio congelato, significa che non saranno più congelati. Verranno rilasciati in atmosfera. Questo significa che nel grafico in cui il vettore aveva un andamento di crescita graduale subirà dei picchi che schizzeranno verso l'alto. In altre parole, ci sarà un quantitativo tale di carbonio immesso in atmosfera che porterà alla diretta estinzione della quasi totalità di biodiversità presente sul pianeta. A tal proposito, è interessante menzionare ciò che dice il rapporto di valutazione PCC del 2007 riguardo al fatto che, secondo alcuni dati satellitari, a partire dal 1978 c'è stata una diminuzione del 2,7% per decennio dell'estinzione del ghiaccio marino artico medioannuale, fino alla scomparsa del ghiaccio marino di fine estate verso il XXI secolo. Infatti, molti scienziati sono d'accordo nell'affermare che lo scioglimento dei ghiacci avverrà con larghissimo anticipo e dentro il 2030 l'artico sarà libero dai ghiacci durante i periodi estivi. Ma di questo nel rapporto IPCC del 2007 non c'era alcuna menzione. Ecco perché è fondamentale riuscire a mantenere la temperatura media superficiale globale al di sotto della soglia critica di 1,5 gradi centigradi. Ora partiamo dal presupposto che la riduzione delle emissioni inizierà a partire da quest'anno, dal 2020. I risultati indicano che le emissioni industriali di CO2 devono raggiungere lo zero entro il 2065, ma attenzione, in uno scenario senza SIAF. Cerchiamo prima di tutto di capire cos'è il SIAF. Allora, SIAF è una sigla che sta per Sea Heist Albedo Feedback. Sostanzialmente si tratta di un circuito in cui lo scioglimento della neve espone un terreno più scuro che assorbirà più calore e di conseguenza farà sciogliere ancora più neve. Piccola nota però. All'interno della sigla c'è una parolina, Albedo, che è un coefficiente che indica il potere riflettente di una superficie. A questo punto si intuisce bene che la perdita di ghiaccio artico va a ridurre la riflettività dei raggi solari sul pianeta andando ad accrescere il riscaldamento globale. Solo che bisogna anche tenere in considerazione le variabili. Faccio un esempio pratico. Quasi sicuramente molti si ricorderanno gli incendi che hanno coinvolto la Siberia lo scorso anno. Cosa è successo? Durante la combustione degli incendi sono state rilasciate in aria delle particelle nere, chiamate anche black carbon. Queste particelle sono andate a depositarsi sui terreni artici. Sulla base di quello che abbiamo spiegato prima è facile capire che queste particelle nere hanno prima di tutto abbassato il coefficiente di Albedo, quindi la riflettività dei raggi solari, e in più hanno portato ad assorbire più calore accelerando il processo di scioglimento dell'Artico. Quindi sulla base del presupposto fatto in precedenza, in presenza di SIAF, lo sforzo di mitigazione dovrebbe essere molto più rigoroso. E le emissioni dovrebbero essere pari a zero almeno 5 o 15 anni prima, a seconda dello scenario con cui abbiamo a che fare. Inoltre il bilancio del carbonio avrebbe dovuto essere ridotto dal 20 al 51% per compensare questa supplementare fonte di riscaldamento provocata dalla perdita dei ghiacci. Il bilancio del carbonio è uno degli indicatori più chiari del fatto che la piccola finestra di opportunità di riuscire a mantenere la temperatura media superficiale globale al di sotto della soglia critica di 2 gradi centigradi si riduca considerevolmente a causa della perdita di ghiaccio marino nell'Artico. A tal proposito è interessante ciò che viene detto nel rapporto IPCC del 2007 riguardo al fatto che la riduzione della calotta glaciale della Groenlandia provocherà un innalzamento del livello del mare di circa 7 metri dopo il 2100. Lasciamo un attimo da parte i numeri, concentriamoci solo sul fatto che la perdita di massa glaciale porterà a un punto di non ritorno ovvero l'innalzamento del livello del mare che vedremo più avanti. Riguardo sempre alla perdita della massa glaciale artica va detto che il tasso annuo della perdita di massa glaciale è raddoppiato nel periodo che va dal 2003 al 2010 rispetto al tasso del XX secolo. In più gli scienziati esperti nello studio della criosfera ammettono una scarsa comprensione nei processi coinvolti nel ritiro della massa glaciale. Inoltre i modelli climatici non sono adeguatamente in grado di prevedere l'accelerazione, il ritiro e il diradamento delle calotte glaciali. A tal proposito voglio menzionare le interessanti parole che James Hansen, il capo del Goddard Institute for Space Studies della NASA, ha detto nel 2012 al giornale Bloomberg, ovvero la più grande preoccupazione è che la perdita di ghiaccio marino artico crei una grave minaccia di superare altri due punti di svolta. Il primo è la potenziale instabilità dello strato di ghiaccio dell'Agroenlandia e il secondo sono gli idrati di metano. Questi ultimi due punti di non ritorno avrebbero conseguenze che sono praticamente irreversibili su scale temporali di rilevanza per l'umanità. E anche su questo l'IPCC tace. Ma la perdita di massa glaciale non riguarda solo l'Artico, ma anche l'Antartico, in quanto quest'ultima è fortemente destabilizzata. Infatti se prendiamo in esame l'Antartide occidentale, in particolare il settore di mare di Amundsen, possiamo vedere che il ritiro del ghiaccio è inarrestabile, con un conseguente aumento del livello del mare di un metro in tutto il mondo. E questa reazione a catena provocherà probabilmente il collasso della restante calotta antartica occidentale, con un innalzamento del livello del mare compreso in un valore tra 3 e 5 metri, avendo ovviamente un'incidenza su milioni di persone. Basti pensare a tutte quelle popolazioni che vivono sulle coste. Ma anche questa previsione è lontanissima dai rapporti PCC. Inoltre i dati del 2018 mostrano ritmi di perdita della massa glaciale dell'Antartico occidentale, che triplica da 53 più o meno 29 miliardi di tonnellate all'anno a 159 più o meno 26 miliardi nel periodo compreso tra il 1992 e il 2017. In più va anche detto che negli ultimi cinque anni c'è stata una perdita totale dei ghiacci del 40%. E la costante di tempo relativa allo scioglimento della massa glaciale produrrà innalzamento del livello del mare di 5 metri solo entro questo secolo. A questo punto la perdita di massa glaciale artica e antartica ha come conseguenza il raggiungimento di un altro punto di non ritorno, ovvero l'innalzamento del livello del mare. Riguardo a questo il terzo rapporto di valutazione PCC risalente al 2001 aveva previsto un innalzamento del livello del mare di 2 mm all'anno, quando in realtà i satelliti hanno mostrato livelli aumentati mediamente di 3,3 mm all'anno in un periodo compreso tra il 1993 e il 2006. Inoltre un rapporto del NOAA, ovvero il National Oceanic and Atmospheric Administration ipotizza uno scenario di innalzamento del mare di 2,5 metri per il 2100, di 5,5 metri per il 2150 e 9,7 metri per il 2200. A questo punto però qualcuno potrebbe dire a me che me frega, tanto per quel periodo sarò già morto e sepolto, mangiato e digerito dai vermi. Volendo assecondare questo modo di ragionare egoistico è impossibile dargli torto se non fosse per il fatto che le scelte scelerate che la nostra specie ha preso durante la storia dell'umanità non hanno avuto un effetto boomerang che è tornato indietro a chi l'ha lanciato, ma hanno coinvolto miriadi di specie e continueranno a coinvolgere milioni di specie che non c'entrano nulla. Specie che meritano molto di più dell'essere umano di stare su questo pianeta e non è per una questione ideologica, è semplicemente per il fatto che la maggioranza delle specie riesce a intrattenere delle interazioni intelligenti all'interno dell'ecosistema in cui si trova, riuscendo quindi a preservarne l'equilibrio. La nostra specie invece per natura tende a insediarsi in un ambiente e a sfruttare le risorse fino a esaurirle del tutto. Nel momento in cui le abbiamo esaurite ci spostiamo in un altro ambiente ricco di risorse. C'è un altro organismo di questo pianeta che seguisce il stesso pattern. Do you know what it is? Un virus. Citando l'agente Smith di Matrix, noi non siamo mammiferi, siamo più simili a virus nel modo in cui ci comportiamo. Non riusciamo a intrattenere delle interazioni intelligenti all'interno di un ecosistema. Noi sfruttiamo le risorse, ci insediamo, infestiamo, fino a provocare la morte dell'ambiente in cui viviamo. Ma tornando al discorso dell'inalzamento del livello del mare, è interessante una relazione che c'è tra il quarto rapporto di valutazione PCC e il quinto. Il primo, risalente al 2007, aveva proiettato un innalzamento del livello del mare compreso in un valore tra 18 e 59 cm per il 2100. Invece il successivo, il quinto rapporto di valutazione risalente al 2014, parlava di un innalzamento del livello del mare di 55 cm per il 2100. Un errore che mostra una cifra interiore non tenendo in considerazione le masse polari. E in questo caso James Hansen, menzionato in precedenza, parlò di reticenza scientifica. Quindi in conclusione possiamo dire che sia Groenlandia che Antartide stanno perdendo massa glaciale a un ritmo accelerato rispetto alle vecchie valutazioni. E i rapporti PCC purtroppo non tengono in considerazione questi fenomeni. Con questo si conclude ciò che riguardava le sottovalutazioni scientifiche. Ma come abbiamo detto prima, il raggiungimento di un punto di non ritorno è figlio di due tipi di sottovalutazioni. Infatti, adesso cominciamo a parlare delle sottovalutazioni di natura politica che personalmente ritengo ben più gravi rispetto alle precedenti per il fatto che perseguono interessi privati dei singoli stati e di chi agisce a livello sovranazionale. Ma questo lo spiegherò meglio più avanti. Partiamo col dire che gli autori, coordinatori dei rapporti PCC, vengono selezionati dai rappresentanti politici dei 195 Paesi membri dell'Intergovernmental Panel on Climate Change. E mentre i rapporti integrali vengono compilati da scienziati, gli SPM, ovvero i Summary for Policymakers, che sono delle sintesi per i responsabili politici molto più brevi rispetto ai primi e ampiamente segnalati, richiedono il consenso dei diplomatici in una scrupolosa revisione da parte dei rappresentanti politici di oltre 100 governi mondiali. E tutti devono approvare il documento di sintesi finale. Ora cominciamo a entrare più nello specifico riguardo all'influenza che la politica ha avuto nell'alterazione dei rapporti di valutazione scientifici da parte delle PCC. Infatti, sin dalla prima valutazione risalente al 1990, le delegazioni di Stati Uniti d'America, Arabia Saudita e Russia anacquarono il senso d'allarme nella formulazione rafforzando l'aura d'incertezza, che ha portato poi a minimizzare i rischi climatici con cui oggi ci ritroviamo ad avere a che fare, introducendo concetti dubbi come ad esempio il rimborso del debito di carbonio attraverso le emissioni negative per compensare la mitigazione ritardata, che comunque spiegherò meglio più avanti. Quindi già qui comincia ad avere senso il discorso dell'influenza politica nell'alterazione dei rapporti. A tal proposito, il professor Martin Parry del Met Office United Kingdom, co-presidente di un gruppo di lavoro dell'IPCC, dopo alcune discussioni tra scienziati e funzionari politici sul Summary for Policymaker della quarta valutazione, IPCC risalente al 2007, dichiarò le seguenti parole. Ai governi non piacciono i numeri. Quindi alcuni numeri sono stati spazzati via dal rapporto. Inoltre, nel 2014, il famoso giornale The Guardian riportò prove sul fatto che i Summary for Policymakers sugli impatti climatici e la mitigazione dell'IPCC erano stati significativamente diluiti sotto la pressione politica dei maggiori stati produttori di gas effetto serra globali, quali Stati Uniti d'America, Arabia Saudita, Cina e Brasile. A tal proposito, c'entra in pieno in bersaglio l'affermazione severa da parte del professor Michael Oppenheimer, uno scienziato del clima dell'Università di Princeton, quando dice che la politica è d'intralcio. Ecco perché Oliver Gedden, il capo di visione e ricerca dell'Unione Europea, mette in risalto la necessità della comunità scientifica di difendere la propria indipendenza da interferenze esterne. Ora, teniamo in considerazione che sia scienziati che responsabili politici hanno già accettato il fatto che i progressi non saranno sufficienti a mantenere la temperatura media superficiale globale al di sotto dei 2 gradi centigradi. Sulla base di questa consapevolezza, pare logico che i rapporti di valutazione scientifici devono cercare di essere quanto più accurati possibili rispetto ai precedenti, e di conseguenza la politica deve adottare misure quanto più rigorose possibili e drastiche proprio per riuscire a limitare i danni. Invece sembra che questa consapevolezza abbia innescato l'effetto contrario. C'è una corsa sfrenata nel perseguire gli interessi privati dei singoli stati, fin quando ci sarà la possibilità di perseguirli. Ed è assurdo pensare che le sorti della popolazione mondiale sono nelle mani di figure del genere. Cioè l'obiettivo dei negoziati è diventato ciò che è politicamente possibile, non ciò che è ottimale per l'ambiente. Si è passati da negoziati per un obiettivo globale dall'alto verso il basso per stabilizzare le emissioni e imporre un bilancio del carbonio giuridicamente vincolante, alla riunione di Parigi, che si è concentrata nell'accordarsi su impegni volontari dei singoli stati per ridurre le emissioni. L'obiettivo globale è stato anacquato per ottenere accordi che fanno l'interesse di politiche ambiziose, che vogliono utilizzare sistemi graduali e non drastici. Senza contare il fatto che vi è un'assenza di concordati meccanismi di misurazione rigorosi, comunicazione e verifica. Ecco perché, come dice Oliver Gedden, i consulenti scientifici sul clima devono mantenere l'integrità contro le pressioni politiche nell'adeguare i fatti al fallimento dei negoziati globali di ridurre le emissioni. Va anche detto però che gli scienziati del clima e gli economisti che consigliano i policy makers sono sottoposti a pressioni per estendere i loro modelli e opzioni per attuare la mitigazione in un secondo momento. Ho già menzionato un paio di volte queste figure qui, i policy makers, ma chi sono? Chi sono queste figure ombra che si sa che esistono ma non si riesce ad attribuirli un volto? Un'esauriente definizione ci viene fornita da Pixel quando dice che i policy makers sono politici e burocrati che in vari ambiti istituzionali con diverse competenze e responsabilità prendono decisioni che modificano ciò che si può o è conveniente fare. In breve, con le loro decisioni o non decisioni determinano i nostri comportamenti e i risultati che da essi conseguono. Dunque modificano il nostro benessere. E i modi nei quali possono farlo sono numerosi e variegati come ad esempio le decisioni sulla spesa pubblica e la tassazione, la gestione della moneta, le decisioni su cosa debba essere prodotto da imprese di proprietà pubblica e quindi sottratto al normale funzionamento del mercato, la regolamentazione del mercato o i rapporti internazionali. Quindi con questo riusciamo a vedere come i policy makers hanno un ruolo fondamentale nell'influenzare il nostro stile di vita e anche i rapporti di valutazione dell'IPCC. Ecco perché i consulenti scientifici devono resistere alle pressioni che minano l'integrità della scienza del clima e invece di diffondere un falso ottimismo devono essere saldi e difendere la propria indipendenza intellettuale. I risultati e le raccomandazioni non importa quanto politicamente sgradevoli. Ma riallacciandomi al discorso fatto in precedenza riguardo al fatto che la politica ha creato un'aura di incertezza che poi ha portato a minimizzare i rischi climatici con cui oggi abbiamo a che fare, parlavo del fatto che ha introdotto concetti dubbi come ad esempio il rimborso del debito di carbonio attraverso le emissioni negative per compensare la mitigazione ritardata. Questo in teoria. Per riuscire a comprendere meglio questo discorso è necessario parlare di cosa sono le emissioni negative. Partiamo dal presupposto che per limitare la temperatura media superficiale globale al di sotto della soglia critica di 1,5 gradi centigradi è necessario stoccare la CO2 nelle piante, negli oceani e nel sottosuolo passando da 100 a 1000 miliardi di tonnellate entro il 2100. Solo che la compensazione delle emissioni non è molto semplice attuarla in settori difficilmente decarbonizzabili come ad esempio il trasporto aereo o l'agricoltura. Ecco che a questo punto arrivano in aiuto tecnologie che promettono di rimuovere la CO2 presente in atmosfera anche se quest'ultime non hanno dimostrato un'efficacia reale. Al momento esistono tre metodi diversi per stoccare la CO2. Il primo metodo che è quello più blasonato consiste nella piantumazione di specie permanente o a crescita rapida. L'obiettivo è quello di bruciare la biomassa prodotta catturando la CO2 derivata dalla combustione anche se pro pubblica ha dimostrato che questo sistema è di scarsa efficacia. Il secondo metodo che sta facendo fermentare le start-up collegate ai processi fisico-chimici legati alla cattura diretta della CO2 è possibile vedere come funziona attraverso la Carbon Engineering di David Keat, un fisico di Harvard. Carbon Engineering inoltre supportata da Bill Gates. Questo metodo ha portato allo sviluppo di un enorme aspirapolvere che filtra l'aria rimuovendo una tonnellata di CO2 al giorno. Mentre il Climeworks di Zurigo con lo stesso metodo è riuscito a catturare 2 tonnellate al giorno. Peccato però che questo sistema richiede notevoli quantità di energia e l'impiego di sostanze chimiche per catturare piccolissime quantità di CO2 concentrate in atmosfera. Stiamo parlando dello 0,04% nell'aria respirabile senza contare il non sapere cosa farne. Il terzo metodo, che è quello meno caro di tutti, prevede la cattura dell'anidride carbonica direttamente alla fonte come ad esempio nelle ciminiere di una centrale elettrica dove è più concentrata. Ma anche questo è un processo che richiede molta energia e resta sempre il problema di cosa fare della CO2 una volta rimossa dei fumi. Tradizionalmente la cattura e lo stoccaggio prevede l'intercettazione del gas per iniettarlo in profondità, in generale nei giacimenti esauriti dove non può fare nulla di male. Ma lo stoccaggio è una tecnica ancora poco praticata e resta al dubbio che il gas riesca a uscire alla lunga tornando in atmosfera. Dopo decenni di studi ed esperimenti ci sono solo una quindicina di progetti pilota a livello industriale o semi industriale nel mondo e da qui i tentativi di fissare la CO2 mineralizzandola in modo che resti sottoterra. Questa è una procedura che si risolve l'incertezza ambientale ma non il conto economico dello stoccaggio. E solo l'aumento del prezzo del carbonio, che si tratti di carbon tax o titoli di emissione, potrebbe riuscire a incoraggiare l'industria a investire in questa tecnologia. Continuando a parlare di sottovalutazioni politiche è impossibile ignorare quelli che sono gli obiettivi abbandonati. Infatti l'accordo di Parigi del 2015 è quasi privo di linguaggio sostanziale sulla causa dell'uomo riguardo al cambiamento climatico. Senza riferimenti a carbone, olio di scisto, petrolio, fossile, CO2, carburante. Ne ha parole forti come zero, ban, proibito, stop. A confronto il termine adattamento compare più di 31 volte, senza menzionare la responsabilità dei singoli stati a essere costretti ad adattarsi. Si tratta di un accordo con un abbondante gergo burocratico che ha un obiettivo comune ma nessun piano di azione. Inoltre i tagli delle emissioni proposti dalle singole nazioni ai sensi dell'accordo di Parigi sono facoltativi, unilaterali, senza un meccanismo di conformità esecutivo. Cioè, in altre parole, l'accordo non è vincolante per i fermatari. E gli obiettivi attuali escludono il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzare la temperatura al di sotto della soglia critica che va da 1,5 a 2 gradi centigradi in questo secolo. È più plausibile un percorso di riscaldamento attestato sui 3,4 gradi centigradi di temperatura media superficiale globale. E a questo punto è interessante menzionare il fatto che gli scienziati hanno differenziato la banda di soglia critica da 1 a 2 gradi centigradi come pericoloso. Ed è estremamente pericoloso il superamento dei 2 gradi centigradi. E noi ci troviamo già in una fascia pericolosa. E riguardo a questo le prove si stanno accumulando, come ad esempio l'Artico senza ghiaccio estivo, la perdita dei ghiacciai in Antartico occidentale, l'innalzamento del livello del mare. Tutte queste prove tendono a mostrarci che noi ci troviamo già su un percorso di raggiungimento di punti di non ritorno. Ma cerchiamo di elencarli concretamente, questi punti di non ritorno con cui ci troveremo a che fare nel prossimo futuro. Come ad esempio il rallentamento della circolazione termoalina, l'accelerazione della perdita della massa glaciale di Groenlandia-Antartide, la ridotta efficienza dell'assorbimento di carbonio da parte delle foreste tropicali, la vulnerabilità dei depositi di ghiaccio permanente, oppure il fatto che il superamento della soglia critica di 1,5 gradi centigradi determinerebbe un sufficiente innalzamento del mare che comprometterebbe gli aspetti principali della civiltà umana, senza contare la riduzione della presenza di corallo negli ecosistemi marini. Riguardo a questo basti pensare che un gruppo di esperti ha concluso che per salvare la grande barriera corallina il riscaldamento dovrebbe essere limitato al di sotto di una soglia critica di 1,2 gradi centigradi. Noi ci troviamo già in una fascia pericolosa riguardo al cambiamento climatico, ma l'UNFCCC non riconosce questa realtà proponendo obiettivi di riscaldamento come obiettivi politici, e l'avere impostato soglie critiche che vanno da 1,5 e 2 gradi centigradi dimostrano che l'UNFCCC ha abbandonato l'obiettivo di prevenire un'influenza antropogenica riguardo al cambiamento climatico per questo secolo. L'obiettivo chiave dell'UNFCCC è quello di garantire che la produzione di cibo non sia minacciata, scartando l'impegno di fornire agli ecosistemi un tempo sufficiente per adattarsi naturalmente ai cambiamenti climatici per scopi pratici. Peccato però che la produzione di cibo è già minacciata da una serie di fenomeni, come ad esempio l'inalzamento del mare e le inondazioni, le variazioni dei modelli di precipitazioni, la desertificazione, le estreme ondate di caldo e incendi, senza contare il fatto che ecosistemi tra cui barriere coralline, mangrovie e foreste di kelpi in Australia si stanno degradando velocemente. Noi stiamo andando incontro alla sesta estinzione di massa. I politici non hanno alcun accordo realistico per salvare o ripristinare il clima e gli ecosistemi gravemente degradati, dall'Artico all'Amazzonia così come dalla barriera corallina al Sahel. L'Accordo di Parigi invece ha riconosciuto come fondamentale la priorità di salvaguardia della sicurezza alimentare. Non ha fatto riferimento agli impegni precedenti di agire entro le scadenze sufficienti a consentire agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti climatici. Ciò suggerisce letterale abbandono dell'obiettivo. E con questo concludo ciò che aveva a che fare con le sottovalutazioni politiche. A questo punto, concludendo, noi possiamo attribuire le colpe a chiunque, ma c'è da dire che il grande, l'unico principale problema con cui noi abbiamo a che fare è il tasso di densità di popolazione mondiale. Siamo troppi! E non è una questione ideologica, è proprio una questione matematica. La domanda della popolazione mondiale non può essere soddisfatta sulla base delle risorse che abbiamo a disposizione. E purtroppo non si stanno portando avanti delle politiche serie da questo punto di vista di controllo della popolazione. Addirittura spesso sentiamo parlare politici di incoraggiamento delle nascite. Ma attenzione, questo è un discorso che non deve essere applicato solo ed esclusivamente in alcune nazioni. Questo è un discorso che va applicato in modo sincronizzato a livello globale. Noi stiamo andando incontro alla fine della comunità globale organizzata. Il che sarebbe anche un bene, non fosse per le conseguenze che lasceremmo al pianeta. Perché il nostro destino è strettamente collegato a quello della biodiversità. Ed esisterebbero diversi sistemi per attuare un controllo della popolazione. Uno è quello del controllo delle nascite. Un altro è il depotenziamento di quegli strumenti che garantiscono la longevità della nostra specie. E questi lo so che appaiono come discorsi drastici, spietati, cinici. Il problema è che noi comunque sia andremo incontro a un'estinzione di massa. Allora il punto è, specialmente per quelle persone che hanno figli, perché magari chi non ha figli si estinguerà e non avrà nulla da rimpiangere e da lasciare. Il punto è che noi in entrambi i casi andiamo incontro allo stesso risultato. Solo che se ora noi attraverso una serie di sacrifici come comunità globale organizzata riusciamo a fare, ed è una bugia il fatto che per dire fare dei sacrifici ora eliminare l'utilizzo di combustibili fossili di punto in bianco non avrebbe delle conseguenze. Anzi questo porterebbe a epidemie, carestie, guerre, scontri civili eccetera. Solo che farlo adesso riuscirebbe a garantire la sopravvivenza delle future generazioni e della biodiversità. Mantenere la società così come la conosciamo oggi, facendo finta di niente, ci porterà comunque allo stesso risultato. Il problema è che dopo non ci sarà più la possibilità di far sopravvivere le future generazioni. La gente sta accogliendo l'estinzione a braccia aperte e non se ne rende neanche conto. Questo è il grande problema. Noi nei prossimi anni avremo a che fare con un futuro insopportabile. Senza contare il fatto che già nei prossimi anni ci saranno lavori che non si potranno più fare. Stiamo notando come le stagioni diventano sempre più calde. Specialmente durante i periodi estivi, lavori come ad esempio l'asfaltista, il muratore, chi lavora a contatto con i forni, non potrà più fare questi lavori qui. Questi lavori diventeranno umanamente insopportabili. Allora il punto è, dato che questo sistema cerca di preservare a tutti i costi una società basata sulla produzione a ogni costo, sfruttamento delle risorse per produrre, 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 comunque si ritroverà incontro ai prossimi anni a determinati settori che non potranno più avere valore economico. Proprio perché non potranno più essere svolti da parte dei lavoratori. E a meno che non esista un'intelligenza artificiale che possa sostituire il lavoro degli uomini, è a questo a cui stiamo andando incontro. Quindi è necessario cominciare anche a parlare di questo discorso, ovvero di lavori, interi settori che rimarranno fermi nei prossimi anni. Io sfido a vedere come i lavoratori nei prossimi anni, specialmente durante i periodi estivi, riusciranno a svolgere determinate mansioni. Inoltre i cambiamenti climatici con cui avremo a che fare nei prossimi anni porteranno a delle migrazioni climatiche. E stiamo parlando di miliardi di migranti climatici. Quindi se adesso l'immigrazione viene vista come un problema, aspetto di vedere quando le nazioni dovranno avere a che fare con miliardi di persone che cercheranno di varcare i confini nazionali. Questo porterà allo sbaramento dei confini, all'inasprimento dell'umanità tanto decantata. Ci sarà un aumento di sentimenti nazisti. Questo porterà scontri civili, guerre, per non parlare dello sciacallaggio nelle aree soggette a ripetute devastazioni climatiche. Il nostro futuro sarà l'insegna di uno stile di vita in stato di guerra costante. E questo è il futuro che abbiamo davanti. Questa non è un'idea. Come abbiamo visto, sono fatti basati su dati scientifici. A questo punto voglio fare una considerazione finale sul fatto che scienziati e ricercatori lamentano la non linearità del sistema climatico. E queste pubbliche dichiarazioni di resa di fronte alla complessità delle interazioni tra fattori che modellano il sistema climatico mostrano l'ossessivo bisogno dell'uomo di mettere ordine in un sistema sapientemente caotico, evolutosi nel corso di miliardi di anni, autodeterminandosi senza bisogno che nessuna specie lo regolasse. La conclusione più logica sarebbe quella di lasciare finalmente al pianeta la possibilità di autoripristinarsi senza intervento umano alcuno. Andrebbe accettato quello che io definisco un programma di incoraggiamento e salvaguardia della selvaticità. Un concetto che ho introdotto e descrivo nel mio ultimo libro pubblicato, l'essenza del viaggio a piedi. Concludo molto brevemente parlandovi per l'appunto dell'ultimo libro che ho pubblicato, in cui sostanzialmente descrivo un viaggio a piedi compiuto lungo un'antica via Francigena. In questo viaggio io attraverso tre aree diverse, una industriale, un'agricola e una selvatica. Durante il viaggio maturo una serie di riflessioni, avendo come tema cardine per le mie considerazioni finali sempre l'ambiente. E questo mi ha portato a introdurre nel libro una serie di temi prioritari per la nostra epoca storica. Più che altro perché sono gli unici concetti teorici pratici che possono permettere di riprogettare la società così come la conosciamo e quindi invertire il percorso catastrofico che abbiamo imboccato. Purtroppo è una corsa contro il tempo, quindi prima si prende consapevolezza di questi temi e si applicano a livello globale, prima riusciamo a limitare i danni e alcuni di questi temi di cui parlo nel libro sono in particolar modo la permacultura, il bioregionalismo e la selvaticità da cui poi ho sviluppato il concetto di incoraggiamento e salvaguardia della selvaticità. In questo libro, come ho scritto anche nell'introduzione, ho voluto metaforicamente riparare una collana di perlerotta in cui ogni singola perla rappresenta un tema prioritario che ho rimesso nel cordino. Questo perché oggi purtroppo i temi vengono affrontati generalmente o in modo superficiale oppure ci si concentra talmente tanto sui dettagli da perdere di vista il quadro generale. E sono poche quelle persone che riescono ad affrontare i temi essenziali in modo esauriente riuscendo sempre a mantenere una visione olistica delle cose, perseguendo l'unico obiettivo che vale la pena perseguire, ovvero quello di riuscire a rendere e mantenere il nostro pianeta sano. Ecco perché nel libro ho metaforicamente cercato, raccolto e rimesso a suo posto ogni singola perla nel cordino, che in questo caso è rappresentato dal viaggio a piedi che fa da filo conduttore. Io a questo punto ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato fino ad ora e specialmente ringrazio tutte le persone che leggeranno il mio libro. Vi ricordo che lo trovate solo ed esclusivamente su Amazon. Grazie ancora e ciao! Grazie a tutti!